Sicuramente la cosa più importante è aver presente, aver chiaro come sta trasformandosi il mondo del lavoro a tanti livelli. Ci sono una marea di lavori che ancora non esistono, che attendono chi oggi sta studiando per prepararsi a un mondo del lavoro che è in continua evoluzione. Io dico due aspetti, uno è quello di non accontentarsi mai, nel senso di andare sempre oltre rispetto a quello che si ha tra le mani e dall'altro, visto che siamo in un mondo in continua evoluzione, molto veloce, una volta terminati gli studi e quando uno inizia a lavorare non smettere mai di imparare, lavorare sulla formazione continua.